Ciao ragazze e ragazzi, oggi vi presento un outfit molto casual, anche se questo abito che indosso oggi è molto contraddittorio, perché un abito sportivo comprato addirittura sulla zona sportiva di un negozio, cioè praticamente è un abito felpato e quindi stava tra le felpe e tute. Ovviamente io non è del mio stile usare i sneakers, può darsi che ci andrebbe pure con i sneakers, ma non è il mio modo di vestire, non vestirei mai una gonna, un mio abito con un paio di sneakers, ma non perché non mi piace sui altri, mi piace, non piace su di me e quindi non lo faccio, però è un abitino dalla linea sport, anche se ha tutti questi colori, queste paillettes che gli dà un tocco un po' più, però io lo uso casual, cioè quando devo uscire così, non per forza di sera o a cena. Ho indossato, ho abbinato un paio di stivaletti con un tacchetto 10, un po' più grosso, un tacco un po' più grosso che mi è molto comodo e riprende al colore del vestito, riprende questo amaranto e quindi ho scelto queste scarpe. Come sopra abito, siccome il vestito è un po' cortino e devo uscire fuori, metto un capotto che copre bene le gambe, fino sotto le ginocchia e ovviamente indosso una borsa nera perché borsa di quel colore non ce l'ho, sennò sarei stata capace ad abbinare anche quella. Questo è il mio outfit di oggi, spero che vi piace, mettetemi un like, iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto e se avete domande scrivetemi, vi risponderò con piacere. Invece se volete scrivermi un'email, il mio indirizzo è elisabetta donneover40.com Ciao ragazze!